Il calendario APON 2024 è il calendario delle dame, una selezione di immagini tratte dal periodico femminile Il Corriere delle Dame, fondato a Milano nel 1804 per opera di Carolina Lattanzi, moglie del giornalista romano Giuseppe Lattanzi, di cui la Biblioteca Statale di Cremona conserva numerose edizioni. Le immagini scelte per il lunario di quest'anno, grazie alla collaborazione e disponibilità della direttrice della Biblioteca Statale Raffaella Barbierato, sono lo specchio della moda femminile di quell'epoca, con molta influenza francese, ma che ha visto proprio in quegli anni la nascita e l'affermazione della moda milanese. Un tema che ha conquistato APON e su cui è ricaduta la scelta, proprio perché la divulgazione di una rivista femminile ha rappresentato un'innovazione, una modernità per quel periodo storico. E anche perché la moda è donna, perché la moda unisce, perché seguire la moda e prendersi cura di sé, allora come oggi, fa sentire più bella dentro e fuori. E questo aiuta a raggiungere maggiore fiducia, autostima, sentimenti indispensabili per affrontare le difficoltà della vita, come la malattia. Il calendario è stato distribuito a fine presentazione e nei prossimi giorni sarà spedito agli oltre 1800 sostenitori che in questi anni, con la loro generosità, hanno supportato l'associazione. Potrà inoltre dall'11 dicembre essere ritirato nella sede di Via Damiano Chiesa e alla tipografia fantigrafica.